signor bontempo siamo ancora una volta in via diaz qui nel comune di san fior l'anno scorso abbiamo eletto la sua casa la casa delle 60.000 luci i cittadini di san fior ma non solo tutti i trevigiani si chiedono quest'anno passando in via diaz si vedranno le luci dell'anno scorso no quelle l'anno scorso no ci sono 21 proiettori e 17 lampade di quel genere che fanno la fiamma la decisione è stata presa perché presa per evitare assembramenti come l'anno scorso che un sacco di gente quindi non si può per evitare insomma ma lei le ha contate quante persone sono venute secondo lei più o meno una stima l'anno scorso nella stima di più o meno ogni anno sulle 40.000 persone perché ne arrivano da tutte le parti d'italia e anche dall'estero che i messaggi mi diceva la chat di whatsapp durante il periodo natalizio scotta sì sì durante il periodo di natale sì ci sono molti messaggi per domandare quando le faccio la gente passa per informarsi o per avere dei consulti dove prendo le mari illuminazioni o come fare per fare il lavoro possiamo dire che però le vacanze natalizie anche se non saranno illuminate dalle luci del signore delle 90.000 luci di san fiora può essere sempre una festa da vivere in casa con una luce dentro di noi sì adesso mia moglie oltretutto sta facendo l'albero di natale grande in casa e poi hai visto che la piazza i giardini sono molti illuminati hanno fatto un grande presepio con le luminarie quindi c'è lo stesso da vedere il premier conte ha detto sarà un natale diverso ma non meno autentico e lei cosa risponde ma non credo che può essere il solito natale visto che non si può muoversi fuori di casa più di questo comunque va bene lo stesso allora ci facciamo una promessa signor oscar l'anno prossimo se tutto va bene ricomincio a fare il lavoro anzi ce ne saranno anche di più quindi vediamo ciao